Benvenuti su Gossip Globe. Prima di continuare ricorda di mettere un like, seguire il canale ed attivare la campanella per restare sempre aggiornato. Antonino Spinalbese, noto per la sua breve ma intensa esperienza televisiva e per la sua relazione con Belen Rodriguez ha recentemente ripreso il suo lavoro di parrucchiere. Dopo aver partecipato alla settima edizione del Grande Fratello VIP, ora si trova di nuovo dietro il banco del suo salone, dedicandosi alle acconciature di volti noti. Qualche giorno fa, presso il Salone Aldo Coppola di City Life a Milano, Antonino si è occupato personalmente dei capelli di Antonella Fiordelisi, conosciuta proprio in televisione. In un post sui social in cui mostra Antonino mentre l'acconcia, Antonella scrive, «Dopo un anno è ancora il mio parrucchiere di fiducia», facendo riferimento al periodo trascorso insieme nella casa del Grande Fratello. Spinalbese, che risiede a Milano e condivide la custodia di Luna Marie con Belen Rodriguez, sembra aver momentaneamente abbandonato le ambizioni televisive per concentrarsi nuovamente sul suo mestiere di parrucchiere. Le sue abilità nel campo della bellezza, apprezzate da molte donne milanesi, sono tornate al centro della sua vita. E tu, cosa ne pensi di tutto ciò? Se il video ti è piaciuto non dimenticare di lasciare un like e un commento qui sotto. Il tuo supporto significa molto. Grazie.